La seconda dimensione che l'uomo vive nelle economie moderne è quella aziendale. In una società che sta attraversando un periodo di graduale allargamento dei confini fisici e psicologici della persona, in un mondo che riorganizza il proprio assetto in risposta a veri e propri shock sociopolitici derivanti dal processo di globalizzazione, in un contesto nazionale in cui la politica determina troppo lentamente le sue scelte, la gestione dell'attività economica privata diventa sempre più complessa ed il mercato sempre più competitivo, perché parte di un contesto complessivo molto più ampio. Le aziende che hanno saputo sfruttare la tecnologia, individuando nelle sue innumerevoli applicazioni la spinta per l'innovazione nel produrre, comunicare e vendere, oggi godono di un forte vantaggio competitivo rispetto a chi si è chiamato fuori da questo processo per mere ragioni culturali o economiche. L'automazione dei processi industriali è stato solo il punto di partenza di un progresso tecnologico che oggi consente anche al piccolissimo imprenditore di fruire di servizi che possono migliorare esponenzialmente la produttività del proprio business. L'informatizzazione dei processi di ricerca, analisi, produzione, vendita, distribuzione, comunicazione, contabilità e sicurezza è ormai concretamente possibile anche per le piccole e medie imprese. L'azienda però, come nel caso del singolo individuo, se non difenderà le proprie informazioni da intrusioni indesiderate, si renderà molto vulnerabile ai competitor in quella che è ormai diventata una gara globale. Nella società postmoderna, in cui sono di fatto annullate le distanze ed i mercati sono interconnessi, i principali obiettivi da perseguire in tema di sicurezza per un'azienda diventano la protezione degli interessi aziendali, materiali e immateriali e la sicurezza dei lavoratori, per intenderci quelli che vengono chiamate security and safety. La globalizzazione ha di fatti allargato i confini delle minacce in termini sia quantitativi che qualitativi. Nella società del rischio è necessario essere pronti a contrastare le minacce di livello globale. Il benessere economico, derivante dall'utilizzo della tecnologia, si contrappone oggi al crescente senso di insicurezza e di incertezza dovute ad una consapevolezza della grande vulnerabilità dei sistemi moderni. Se è vero che la paura di un danno dovrebbe essere proporzionale non solo alla gravità del danno stesso, ma anche alla probabilità dell'evento, ci conviene, come hanno fatto tanti illustri studiosi della materia, associare immediatamente al concetto di rischio quello di sistemi di ricerca per il calcolo della probabilità che l'evento stesso si realizzi. I matematici che hanno approcciato la misura del rischio si trovano d'accordo sul fatto che il valore atteso di una decisione si calcola moltiplicando ogni possibile vantaggio per le differenti maniere per le quali lo si può ottenere. L'imprenditore e il manager possono massimizzare gli utili dall'esito di una decisione sulla base delle varie probabilità che si possono prospettare. Gli individui scelgono a loro volta tra varie combinazioni rischiose sulla base dei rispettivi valori di utilità attesa. Essi sceglieranno ovviamente sempre la combinazione alla quale è associata l'utilità attesa più elevata, cioè le alternative che in assoluto offrono i guadagni più elevati o le perdite più basse. La resilienza è la capacità di un'organizzazione, di un sistema, di una comunità, di un individuo, di una società potenzialmente esposti a pericoli, di adattarsi attraverso la resistenza o il cambiamento al fine di raggiungere e mantenere un adeguato livello di capacità, funzioni e strutture. L'innovazione tecnologica ha favorito un livello crescente di vulnerabilità. I moderni sistemi informatici aziendali accumulano immense quantità di informazioni che molto spesso non vengono difese con protocolli sufficientemente sicuri, dalla più piccola azienda che gestisce un piccolo server proprietario alla server farm delle multinazionali del dato. Sono quotidiane le notizie di reato riguardanti la violazione di database aziendali, conti corrente, documenti riservati, progetti in via di sviluppo e, per quanto l'esperienza ci dice che l'uomo rimane necessariamente il fattore di maggiore criticità, questo evidenzia quanto il cyberspazio, in tutte le sue forme, sia ancora molto vulnerabile nel suo insieme. Grazie a tutti, grazie a tutti.